Questo video riguarda i migliori 3 auricolari wireless per iPhone. Il vincitore della qualità è il Mozfit Cuffie Bluetooth. Gli sport cuffie senza fil sono dotati di chip Bluetooth 5.0, che permette di mantenere una connessione stabile a bassa latenza fino a 12 metri di distanza quando chiamate, gioca o si guardano video. Progettate ergonomicamente, gli auricolari senza fili sono progettate per adattarsi in modo sicuro e confortevole alle orecchie. Questo modello di auricolare Bluetooth sportivo può funzionare per circa 5 a 7 ore con una singola carica. Le cuffie Bluetooth utilizzano altoparlanti dinamici da 10 mm e l'isolamento acustico garantisce una qualità delle chiamate in ear chiara e impeccabile. Le cuffie Bluetooth si accoppiano con il tuo dispositivo intelligente via Bluetooth. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il Suicear Cuffie Bluetooth. Suicear 80G, l'auricolare Bluetooth wireless utilizza la più recente tecnologia Bluetooth 5.0 rispetto alla tecnologia Bluetooth 5.0. Questo auricolare adottano un diaframma da 10 mm e una tecnologia di rendering ad alta definizione per fornire uno stereo ricco. Un singolo auricolare può riprodurre 6 ore di musica. La custodia di ricarica portatile può essere utilizzata per 24 ore di riproduzione continua. L'auricolare utilizza il pannello tattile più sensibile sul mercato. Che può facilmente riprodurre o pausa la musica, mettere, rispondere o riagganciare alle chiamate e attivare l'assistente vocale con facilità ecc. Con tecnologia impermeabile IPX6, può proteggere il Cuffie Bluetooth Sport dal sudore e dalla pioggia durante gli sport faticosi o l'uso quotidiano. Il vincitore del premio è il QHQO Cuffie Bluetooth. Cuffie Bluetooth 5.1 offre un accoppiamento più rapido e una connessione wireless stabile ed efficiente. Aprire solo la custodia di ricarica. Estrarre due auricolari Bluetooth dalla custodia di ricarica e si accoppieranno automaticamente tra loro. QHQO Cuffie Bluetooth utilizzano altoparlanti professionali da 6 mm. Aggiungono un design a diaframma composito. Per evitare distorsioni del suono, zero ritardi nei giochi o nell'ascolto della musica può ottenere il più naturale e il più autentico esperienza d'ascolto. Progettati per essere sia leggeri che ergonomici, gli auricolari Bluetooth H1 offrono esperienze di utilizzo completamente nuove. Anche se lo indossi per molto tempo, non ti sentirai a disagio. Perfetto per lo sport, allenamento, jogging e ascoltare musica. Una singola ricarica basta per mantenere gli auricolari funzionanti per 4 a 5 ore. La custodia di ricarica fornisce un totale di 4 ricariche, per un totale di 25 ore di funzionamento. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.